La rubata da Sia, Milan che si ributta in avanti con Elilali, tutto solo Cuenca in mezzo, palla per lui, Cuenca in era di rigore, il tiro e il Gordon! Ugo Cuenca! Ali tutto solo Cuenca in mezzo, palla per lui, Cuenca in era di rigore, il tiro e il Gordon! E' bravo a sfruttarla, gol del 2-2 di Ugo Cuenca. E' bravo a sfruttarla, gol del 2-2 di Ugo Cuenca in mezzo, palla per lui, Cuenca in mezzo, palla per lui,